ecco la preparazione questa è la barchetta di Pippo ecco Pippo che porta la batteria è diventato un vero prolosion della batteria per fare cosa per caricare la batteria grande Pippo questa è il nostro numero 6 sono stati vestiti sono stati vestiti come se usate e questo finisimo è il loro passo io ti metto con la prima parte di dei due strati realizzati Sì, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace. Non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace. Non mi piace, 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 non mi piace Grazie a tutti.